Il saluto, il ringraziamento, il congedo. Ultima uscita pubblica per il magnifico rettore uscente dell'Università dell'Insubri, Angelo Tagliabue. Davanti alla nuova Aula Magna di Via Ravasi, la presentazione di un fotolibro dedicato ai sei anni alla guida dell'Ateneo Varesino e Comasco. Un passaggio di consegne con la nuova rettrice che da lunedì inizierà il suo cammino. Io frequentavo il rettorato, non dico con i pantaloni corti, ma quasi da giovane ricercatore, ho avuto modo di imparare molto da chi mi ha preceduto. Un bilancio sicuramente positivo, malgrado che siano state, come ben sapete, delle avversità. Le avversità però ci hanno fatto crescere, ci hanno reso più forti, ci hanno reso più dinamici e penso che sia giusto che poi ci sia un cambio di vertice perché dopo un po' le idee vengono un pochino meno, ci vuole un impulso nuovo, un po' come nelle squadre di calcio, ogni tanto si cambia l'allenatore per migliorare le performance. I grandi CEO si alternano nelle aziende e quindi anche noi dobbiamo rinnovarci ed è giusto. Quello che è stato fatto è un'istantanea fatta in questo periodo per cui abbiamo scelto un libro fotografico apposta per la non comparazione delle azioni. E questo è un altro mattone che abbiamo messo per la crescita del nostro Ateneo che sicuramente procederà nel migliore dei modi. Grazie.